ragazzi ciao non pensare non pensare che stia di nuovo facendo video in auto ma oggi sto andando appunto a vedere il finale quasi di un'installazione di caldaia legna e solare termico e sono in una vettura pazzesca piccolina bella e soprattutto totalmente elettrica dopo te la faccio vedere ma intanto ti faccio vedere anche il panorama e stiamo andando ad ospedaletto uganeo qui alla base un po' dei colli ugani veramente bello auto elettrica super l'unica paura è l'autonomia di questa macchina i chilometri vanno giù e la ricarica è lenta molto lenta dai dopo te la faccio vedere da lì fuori sono quasi arrivato a destinazione in realtà volevo farti un video da spettatore invece te lo faccio ancora da guidatore di questa bella 208 fuori poi ho anche guardato perché non sapevo neanche che tipologia di Peugeot era quindi 208 completamente elettrica ho tolto anche la posizione B che è la posizione che presuppone un po' di ricarica nel momento in cui si decelera la macchina oppure si frena e si va in charge tipo vedi charge quindi una mini ricarica ho tolto la posizione eco e adesso metto la posizione sport e voglio farti vedere dal contachilometri un po' la velocità della della macchina posizione eco posizione normale posizione sport benissimo adesso becco un po' di rettilineo della superstrada e poi ti faccio vedere come va su di giri la bestia allora superstrada ormai passata e quindi non riesco a farti vedere nulla però sono entrato in una zona industriale adesso vedo se trovo uno spazio in sicurezza metto la gopro fissa e così vedi ok gopro fissa tolto tutto siamo in sport 28 all'ora schiaccio l'acceleratore 90 all'ora un gioiellino sta macchinetta ragazzi bene prova fatta lo so hai visto poco però dai posso dirti che l'auto elettrica è veramente una grande storia l'unico problema è l'autonomia prima dove sono andato a fare il video dell'installazione ad ospedale toganio abbiamo dovuto girare tre posti per trovare le colonine elettriche che poi oltretutto non erano neanche adattabili a questa macchina sicché non lo so se siamo ancora pronti qua in Italia per i lunghi tragetti ad utilizzare l'elettrico forse no però ho tutta la speranza che nel brevissimo termine anche l'Italia potrà essere uno di quei paesi dove i veicoli possano andare il più possibile impatto zero a livello di emissioni e livello di inquinamenti ok dai vado a riportarla e ti faccio vedere anche frattin Stefano ciao ragazzi prima di andare da Stefano vado a bermi un caffè e ti faccio vedere un'altra cosa adesso questa anche se non sbaglio il park assistant ma non so usarlo però la manovrabilità di auto di questo tipo dove non ci sono parti meccaniche è incredibile è incredibile e poi anche un gran bel display per il controllo oltre che per i sensori bene ragazzi allora il mio tour settimanale con la Peugeot 208 totalmente elettrica è finito lì c'è una sua sorellina e sono arrivato qui da frattin Auto che ripeto non becco un centesimo da Stefano che è un mio carissimo amico che mi ha anche fatto questo questo bel regalo e cioè facendomi provare questa macchinetta per una settimana macchina che oltretutto era stata sponsorizzata per il Giro d'Italia e quindi c'è che il Giro d'Italia è passato di qua e sono anche un appassionato di bici da corsa non perché le guardo solo ma perché soprattutto un tempo correvo e quindi bene dai eccola qua bestiolina, Giro d'Italia, Frattin Auto, Frattin Auto e Biomass Evolution bene adesso vado a prendere la macchinetta quella mia aziendale ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando sempre like, commenti, fammi sapere se anche tu sei possessore di macchine del genere di autoveicoli totalmente elettrici e qual è un po' il tuo risponso e il tuo riscontro noi ci vediamo, ciao!